Questa nuova edizione del Silent Book Contest, targata appunto 2022, rivela ancora una volta il vigore e la potenza di questo settore di albi illustrati. Io credo che sia anche grazie al contest stesso che questi progetti stanno aumentando in qualità e in numeri in maniera così importante. Come giuria abbiamo trovato un panorama ricchissimo, è stato difficilissimo scegliere proprio perché i progetti di qualità erano tanti e come responsabile della fiera del libro per ragazzi della Bologna Children's Book Fair, cosa posso aggiungere? Che questo legame con l'iniziativa Silent Book Contest è sempre più nei nostri cuori, riflette sempre di più quello spirito di scouting e quello spirito di realtà internazionale che ci connota da sempre, quindi con piacere ed entusiasmo continuiamo il lavoro insieme e curiosi già di vedere che cosa arriverà per la prossima edizione.